Signori benvenuti sul canale di Agampatesa oggi qua con il grande Bad Black Cat e il medesimo Gingino quattro sette otto siamo per la reaction per il post partita Spezia Catanzaro finita per uno a uno e molto probabilmente ad entrambi i team è andata bene così abbiamo visto caro Bad un Catanzaro un attimo risollevarsi in maniera ottimale con il nuovo innesto da parte di Antonini in difesa ma il nuovo arrivo a Petriccione oggi non ha brillato come speravamo ma dici la tua su questa partita allora partiamo dal fatto che nel primo tempo ho visto un Catanzaro bello pimpante qualche variante tattica oltre che diciamo subito che non giocava a Briganti per squalifica e ha esordito Antonini dal primo minuto e ha dato secondo me una buona solidità la difesa e anche ha giocato con tranquillità come da veterano praticamente come se avesse sempre giocato in serie B quando poi sappiamo bene che appena arrivato dal Taranto in serie C dicevo un Catanzaro che ha fornito una buona prestazione nel primo tempo mi è piaciuto tranne che nell'occasione del gol subito è andato anche in vantaggio il Catanzaro con uno splendido gol di Iemmello nato da un'azione corale assist di Van de Putte poi finalizzato dallo stesso Iemmello per poi diciamo subire uno di quelli che potrebbe essere visto come il classico gol che subisce il Catanzaro cross centro dell'area sponda di testa che va a finire sul palo da parte di un giocatore dello Spezia e poi apporta praticamente vuota segna Iagiello Iagiello non so come si pronunci però però c'è da dire che almeno a mio avviso perché poi sarà da rivedere me la rivedrò con piacere questa azione o con dispiacere per me quel quel gol è viziato da un fallo secondo me abbastanza evidente in attacco da parte del giocatore dello Spezia che praticamente ha usato il povero Veroli che io lo accuso un po' della qualunque per carità di solito però in questo caso non credo che potesse fare molto perché si è ritrovato abbracciato dal giocatore dello Spezia che l'ha usato come trampolino per colpire di testa se quello non è fallo in attacco non so cosa sia un fallo in attacco arriva da questo punto sinceramente però l'arbitro diciamo molto 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 sotto la la sufficienza non solo per quello ma anche per altri episodi c'era anche un contatto sospetto in area di rigore sempre nel primo tempo ai danni di emmello giudicato regolare da parte del del direttore di gara e detto questo nel secondo tempo il catanzaro si è un po' spento ed è venuto fuori lo spezia spezia tra l'altro che ha messo severamente in difficoltà il catanzaro nella prima fase di impostazione perché ha attuato un pressing costante soprattutto con gli aghiello e verde ma anche lo stesso falcinelli e non ha demeritato proprio soprattutto nella fase di pressing il che ha portato spesso fu lignati a sbagliare con i piedi e bisogna dare atto che alla fine lo spezia non ha demeritato questo pareggio soprattutto per il primo tempo e il secondo tempo che abbiamo visto e abbiamo visto un grande verde un grande gli aghiello per lo spezia mentre nel catanzaro abbiamo visto la variante tattica di un van de putt che partiva da sinistra ma ha giocato praticamente a tutto campo lo abbiamo ritrovato spesso a destra come in occasione della rete di emmello l'assist è partito da lì da van de putt spostato sulla fascia destra e secondo me è stato migliore in campo per quanto riguarda il cadanzaro non di putt per quanto riguarda il invece il peggiore abbiamo visto un bias in ombra e bias soprattutto che si è divorato un gol praticamente un rigore in movimento questa è la mia analisi caro gigino ok io nel frattempo voglio dire un po' la mia su questa nuova sinergia che abbiamo visto con la difesa con l'innesto del nuovo acquisto di Antonini per quel che poco ne posso capire in questo momento del gioco del calcio cari signori voglio dire la mia ma non sono un tecnico ma solo un buon amatore di questo gioco e direi che oggi con l'innesto del caro Antonini in difesa abbiamo visto un centro campo e un attacco del cadanzaro eh provare con più qualche gioco eh in settore offensivo perché forse è sentitosi più più protetto in difesa infatti abbiamo visto un van de putt che ha davvero volato su tutto il campo e addirittura partendo come eh sinistra è riuscito addirittura a fare un cross che poi si è finalizzato a gol dalla fascia destra davvero è volato su tutto il campo van de putt a mio dire oggi mvp della partita eh grande pure alcune giocate del caro Iemmello anche se diciamo che la solita pecca che diciamo sempre noi è che Iemmello con le sue polè le sue tattiche e il suo modo davvero di pure vero impeto di giocare questo gioco non trova mai l'appoggio dei propri compagni perché eh non riesce a sinergizzare eh in modo ottimale con Iemmello perché è un giocatore diciamo con un calibro forse un po' più alto rispetto ai propri compagni ma comunque nel complesso eh oggi abbiamo visto un cadanzaro rinnovarsi con un gioco molto aggressivo rispetto a quello che abbiamo visto nelle scorse eh negli scorsi incontri e infatti addirittura siamo arrivati eh a fine partita dove l'unico dato che ci fa capire che il cadanzaro ha davvero lottato è un bel cinque cartellini gialli con eh dati dal caro direttore di gara tutti tutti giusti eh i cartellini gialli però almeno ci hanno provato eh meglio combattere che dar la vinta peccato per il risultato sì 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 no permettimi solo di dire una cosa in chiusura ehm perché voglio riprendere una cosa che hai detto tu all'inizio no eh grande Antonini bella prestazione tra l'altro ha lottato pure fino alla fine avendo anche un evidente problema fisico speriamo che non sia nulla di grave che fossero solo crampi una lieve contrattura né nulla di che però ehm speriamo che non sia nulla di che ha lottato fino alla fine rimasto in campo ma ragazzi l'ingresso di Petriccione è stata una cosa devastante eh eh stavo quasi per farsi aspellere è arrivato la prima cosa che ha fatto ha steso un giocatore si è fatto ammonire eh con un fallo assurdo da dietro senza cioè col pallone lontano ormai e pochi minuti dopo essere stato ammonito è andato a fare un altro intervento simile sulla caviglia dell'avversario cioè proprio assurdo poi sinceramente ha sbagliato anche passaggi semplici io spero che sia solo un episodio perché se questo è il giocatore che deve sostituire Gion o mamma mia ragazzi siamo messi male a male 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 davvero male caro bed diciamo solo questo di Andrea Panella diciamo che in questo giro di ritorno in trasferlo l'importante è non perdere sì assolutamente un punto che comunque fa classifica si inizierà ragazzi raggiungiamo sta salvezza quanto prima e poi magari vediamo se si riesce a farlo exploit se fosse se ci fosse permettetemi di dire se ci fosse stato un mercato un po' più decente allora potremmo fare altri discorsi purtroppo sono arrivati Antonini e Petriccione Antonini magari per quel che ho visto finora grande intuizione e Petriccione comunque è giocatore della serie c non si è fatto nulla non abbiamo preso nessuno centrocampo in più non abbiamo preso un attaccante non abbiamo rinforzato cioè sostituito a dovere cazzeris eh raga pensiamo alla salvezza per ora poi dopo si vedrà perché di più se sono cose fioriranno se sono cose fioriranno poi si vedrà se si potrà fare l'expload per ora pensiamo un punto che fa classifica eh per quanto ci riguarda piuttosto lo spezia è un punto che serve a poco però almeno fa morale per lo spezia intendo nella parte finale voglio solo elogiare eh alcuni giocatori sia dello spezia che del Catanzaro oggi a mio dire dire direttori di gara in campo da parte dello spezia abbiamo Christophe in difesa che è stato sempre attento è sempre punitivo su qualsiasi parte offensiva eh del Catanzaro e il grande verde che davvero davvero ha dato una grande mano al proprio team e per il Catanzaro mitico mitico davvero Van de Putt oggi signori Van de Putt ha davvero provato fino alla fine come un vero un vero vichingo gladiatore a cercare di fare di tutto per portare il proprio team in vantaggio e complimenti sempre al capitano Iemmello che si fa sentire sempre sul campo caro Bed che dire allora io spero che questa nostra riflessione a fine partita a caldo siamo ancora in live addirittura facendo questa piccola riflessione vi sia piaciuta se è così mi raccomando lasciate un like ma soprattutto se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale attivate la campanellina così da rimanere sempre attivi aggiornati su tutti i nostri contenuti e soprattutto ragazzi ci teniamo tantissimo al commento perché grazie al commento ci potete dire la vostra ed è quello che vale più di tutte caro Bed ci vediamo alla prossima live e al prossimo video da gamba di sé tutta ciao belli ciao ciao